Abbiamo qui con noi Marco Pierangeli, uno dei componenti del Comitato di Quartiere di Colle Atterrato. La salute di questo quartiere, signor Pierangeli? È un tema che sta a cuore ai residenti e al Comitato di Quartiere. Abbiamo diversi problemi, o potremmo avere diversi problemi, causati dall'Eternit. Materiale utilizzato in diversi edifici dell'Ater, ex IACP, ma anche nei capannoni del Ruzzo a Villa Pavone e nell'ex manicomio di Contrada Casalena. Tutto questo stato di degrado dei materiali, appunto di questi stabili, potrebbero causare problemi per la salute per i cittadini del quartiere. Noi del Comitato di Quartiere stiamo cercando da tempo di sensibilizzare gli enti di preprosti affinché si occupino del problema con un piano di riqualificazione che porti appunto allo smaltimento dell'Eternit e al miglioramento delle strutture del quartiere. Ecco, comunque questo è un quartiere in continua espansione, negli ultimi anni ha avuto una crescita, un'evoluzione. Questo può aver magari complicato un po' la situazione, che magari qualcuno ha trascurato dell'altro? Ma non credo che sia questo il problema, perché l'espansione del quartiere è un'espansione di tipo privata. Gli enti citati non hanno operato nel quartiere attraverso ampliamenti delle proprie strutture e quindi è soltanto un problema di manutenzione e di sensibilità nei confronti dei problemi dei propri cittadini, perché di fatto l'Ater ha i propri inquilini, di fatto l'Asl dovrebbe tutelare la salute dei cittadini, di fatto il Ruzzo ha delle strutture nelle quali lavorano i propri impiegati, i propri dipendenti e quindi dovrebbero occuparsi prima di tutto di questi e poi del resto del quartiere. Il fatto che sia aumentata la popolazione del quartiere non fa che peggiorare le condizioni di salute generali del quartiere, ma della città di Teramo.